Che sono quelle cose meravigliose volanti? Andiamo! È chiarissimo qual è il tuo problema. Hai una crisi di mezza infanzia. Una crisi di mezza infanzia? Che succede? L'hai riempita troppo? Wow, guarda il fumo! Justin ha bruciato qualcosa? No, sto dando questo cuo di affumicato. Ecco che cosa succede. Sta bruciando il forno. C'è un cattivo odore. Sì, tremendo. Buonasera, signor Brown. Io sono Tata Matilda. Ah, voi... Sì, sì, certo. Ecco che entri di nuovo nel suo orto. Ci sono modi meno pericolosi per rimediare un pasto, lo sai? Ma non sono divertenti. Dica, lei come si chiama? Borlotta. Un nome un po' buco. Che ti devo dire? Mio padre adorava i fagioli borlotti. Beh, è una fortuna che non adorasse gli asparagi. Che hai detto? Niente francese, non lo parlano qui. Ora, il mio prossimo show sarà niente meno che... Rullo di tamburi? Una grande gara di canto! Una gara di canto? Ma come?